Nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto Contessa, sulla strada statale 452 della Contessa Gubbio, ANAS ha avviato le operazioni di varo delle nuove travi metalliche in linea con il cronoprogramma. L'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Enrico Melasecch ha svolto un sopralluogo per verificare andamento e stato di attuazione degli interventi. Ho preso atto con soddisfazione che i lavori sul viadotto stanno avanzando come da cronoprogramma, riferisce l'assessore, allo stesso tempo vanno avanti i lavori nella galleria che, come avevo chiesto, vengono eseguiti contemporaneamente per ridurre i tempi di chiusura della strada. Auspicò afferma che possano essere rispettati i tempi ipotizzati, come al momento appare possibile, restituendo al territorio in via definitiva un'arteria vitale per i collegamenti con le marche. Se non interverranno criticità legate a condizioni meteorologiche o imprevisti, da qui a tre mesi sarà riaperta, conclude, e ci ritroveremo tutti insieme per la cerimonia inaugurale. I lavori di ripristino di entrambe le opere per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro rientrano nell'ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 della Contessa, avviato da ANAS a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell'infrastruttura ex regionale. Nell'ambito dello stesso piano, ANAS ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull'intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzone di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.